Nel prossimo esercito troveremo le relative pause che abbiamo visto prima Facendo attenzione a non suonare per 4 quarti nel momento in cui troveremo la pausa di semipreve Facendo attenzione a non suonare per 2 quarti quando troveremo la pausa di minima Facendo attenzione a non suonare per un quarto quando troveremo la pausa di semiminima Facendo attenzione a non suonare per un ottavo quando troveremo la pausa di croma Avanti con il prossimo esercizio Facendo attenzione a non suonare per un ottavo 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 attenzione a non Grazie a tutti. Grazie a tutti.